Sono qui alla libreria Campedel per presentare il mio nuovo libro Amore, ombre e rocce Già dal titolo stesso si può capire che cosa poi andremo a trovare all'interno di queste pagine Nella copertina vediamo una montagna con un bicchiere di vino Queste sono parti integranti di quello che troviamo all'interno Mia mamma era originaria delle Dolomiti Bellunesi e io ho fatto l'infanzia qua su, fra questi monti, fra queste vette E quindi mi sento parte di questi luoghi Tornando al libro Amore, ombre e rocce L'amore ho cercato di descriverlo in un modo un po' inconsueto, un modo un po' diverso Ovvero l'amore che troviamo in tutte le cose, nelle cose piccole Sta a noi un po' scoprire questo amore L'amore può essere quello che abbiamo per un animale domestico Può essere quello che c'è fra due persone Può essere un'amicizia, anche quello è una forma di amore Di amore può essere l'amore per se stessi, l'amore per la vita L'amore per quello che ci circonda, per la natura Per tutte queste cose di cui noi viviamo ogni giorno E sta anche un po' a noi trovarlo Le ombre invece con un gioco di parole Come si vede in copertina C'è un bicchiere di vino E come si dice in Veneto, le ombre sono anche bicchiere di vino Ma io le ho volute rappresentare anche come ombre nella vita Nella vita ci sono anche momenti bui Momenti un po' difficili Momenti dai quali ci sembra di non potersi rialzare E come il vino, che lo beviamo sia nei momenti belli A volte alziamo il gomito anche nei momenti brutti Per dimenticare Nella vita spesso ci si trova a combattere con queste ombre E quello che bisogna fare è rialzarsi da queste ombre Avere il coraggio di farcela In queste pagine ho raccontato di diversi personaggi Che hanno avuto una vita molto dura, molto difficile Hanno avuto ingiustizie Le rocce invece sono le montagne, le vette Sono quello che abbiamo qui intorno In queste vallate, in questi monti Ho voluto rappresentare quasi una metafora di vita L'arrampicata Cioè io sono uno sportivo Arrampico queste montagne Ma anche giù in Toscana Nell'arrampicata Bisogna sempre guardare in alto Non bisogna mai guardare in basso L'obiettivo lo vediamo lontano Lo vediamo difficile Ma passo dopo passo In piccoli passi riusciamo a raggiungerlo È un po' come nella vita Anche nella vita ci diamo un obiettivo E proviamo a raggiungerlo questo obiettivo Talvolta non riusciamo a raggiungerlo Ma quello che conta è riuscire Ad avercela messa tutta Riuscire a dire Io ho fatto tutto quello che dovevo fare E se non ce la facciamo a raggiungerlo Non importa L'importante è avercela messa tutta Ecco Averci provato E a volte bisogna fare anche dei passi indietro Bisogna dire Io ho sbagliato All'interno del libro Ho raccontato di arrampicate Fatte anche da me Non andate a buon fine Perché avevo sbagliato In genere nell'alpinismo si racconta sempre Di cose ben riuscite Di cose ben fatte Di obiettivi raggiunti Io invece ho voluto raccontare di cose Anche andate male Ma per colpa mia Non per ambienti esterni Si cerca di dare sempre la colpa agli altri Invece a volte bisogna prendersi Anche le proprie di responsabilità E in queste pagine ho voluto raccontare Anche qualcosa di mio Qualche arrampicata non riuscita Oppure riuscita ma fatta male Dove ho rischiato Dove ho fatto cose che non dovevo fare